Ecco fatto! Sì, questo è! Questo lo ricordo io, anche a Francesco Di Martino lo ricordo. L'incredibile due guardo solo dopo che succede. A rispettare la legge questo lo guardo io. Bellissimo! Bellissimo che... Vedete che sì da cucciolo era chiaro che io fossi diverso? Cercai di integrarmi? No grazie, ma non ci riuscite. Lo ricordo anche a Francesco Di Martino. Sono nuove famiglie. Ma per qualche ragione nessuno sceglie da me. Forza, bello! Riporta il bastone! Ma perché? Poi lo lancerai di nuovo. E' un esempio. Volei montavolo laggiù. Questo lo guardo dopo. È sarcastico! Aspetta, aspetta! Torna qui! Lancia il bastone! Sto fermo! Vado a cuccia! Ti do la zampetta! Abbaio! Abbaio! Perciò, senza una famiglia tutta mia, mi dedicai al perseguimento della conoscenza, alla cultura e all'atletica. Abbiamo il canale. Sto utilizzandolo. E cominciai a dedicarmi ad aiutare l'umanità. Sperimentai nuove tecniche... Lo ricordo con l'infraedito a verde Valentino. Ritossi conflitti geopolitici in tutto il mondo. E nel tempo libero inventai il damigugno e il plank di... Mutandonia lo ricordo anche a Mari Di Giovanni lo ricordo. Ma la cosa di cui vado più fiero è il mio figlio Sherman. Ciao Mr. Peabody! Oh! Ma non c'è questo del palo indietro! Ci stiamo arrivando! Quando adottai Sherman, mi eri promisi di essere il miglior padre possibile per prepararlo a tutte le meraviglie del mondo presenti e passate. E così Sherman... Riley lo ricordo dopo... Solo venerdì a Giovanni è... Inside Out e gli incredibili due i cartoni animati lo guardo dopo. Naturalmente viaggiare nel tempo può rivelarsi... Alexi, Leone, l'ho già guardato. Ma sono a questo. La storia di Pisa non è sempre stata pendente. Ma non la tornete con l'imparare la storia in prima persona, giusto Sherman? Dove andiamo oggi Mr. Peabody? Non dove Sherman? Quando? Sì, questo è. Mutandonia manca solo da lunedì. Mutandonia sull'altro canale lo fa. Rivoluzione francese. È la casa più grossa che abbia mai visto. È il palazzo di Bersaio, dimora di Maria Antonietta. Lei era famosa per una cosa in particolare. Un dolce! Oh mio, non sai quanto ne vada ghiotta! Maria Antonietta, guarda di nocci, Mr. Peabody!